La guerra fredda è stata sicuramente un periodo d'oro per l'aviazione, dove due superpotenze tra giochi di spionaggio e di potere crearono le macchine volanti più innovative e sensazionali mai realizzate. E su questo sfondo nasce l'aereo di cui parliamo oggi, l'XB-70 Valkyrie, un bombardiere supersonico in grado di volare più veloce di qualsiasi altro aereo, anche dei caccia. Questo assurdo ma bellissimo aereo non lasciò mai gli Stati Uniti e volò alla massima velocità per solo 32 minuti a fronte di un costo di un miliardo e mezzo di dollari. Perché in realtà non era un bombardiere, era la prova ai russi che gli Stati Uniti potevano fare qualcosa che loro non potevano. In questi video storici qua sul canale stiamo ripercorrendo un po' la storia dell'aviazione, che seppur non in ordine cronologico ha comunque un suo senso. E l'episodio di oggi per contestualizzare avviene all'inizio degli anni 60, quando lo scopo principale era di volare più in alto e più veloce degli altri. Poi nel corso degli anni l'obiettivo dei due eserciti cambiò in volare piano ma essere invisibili, ma quello è un altro discorso. Inizio degli anni 60, il punto era questo. Ci capita di dover spedire una bomba nucleare in Russia. Così, come ce la mandiamo? Allora, le poste italiane poi si perdono i pacchi. Se mandiamo dei B-52, che sono ottimi bombardieri, però sono lenti, sono subsonici, appena arrivano al confine con la Russia si trovano davanti i caccia che possono andare a Mach 2 e non hanno speranze. Possiamo mandare i B-58, ne bastano anche pochi, ma sono bombardieri che vanno a Mach 2, così gli intercettori non riescono a prenderli. Eh, però, il carico utile è limitato, hanno un'autonomia praticamente nulla, e quindi come si potrebbe fare? Potremmo farli decollare da basi alleate direttamente in Europa, lì vicino al confine con la Russia, sì, però se li facciamo arrivare alle basi alleate, i russi sanno che sono lì, e quindi si aspettano che decollino da lì e quindi ci beccano, è un casino. Serviva un aereo che andasse più veloce e più alto dei caccia, che avesse il carico utile di un bombardiere, e che avesse una buona autonomia per poter partire da lontano. Idea bellissima, ma siamo alla fine degli anni 50, e l'obiettivo che si erano posti era Mach 3, con un aereo che a pieno carico avrebbe dovuto essere tipo 250.000 kg, 250 tonnellate di aereo. Per intenderci una roba del genere, avrebbe dovuto essere per forza grande tipo il doppio del Concorde. Non una, ma due aziende si dimostrarono interessate all'appalto. Boeing, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, e North American Aviation, che magari in pochi conoscono, ma ha prodotto aerei iconici come il P-51, ed è poi stata assorbita successivamente da Boeing. Allora, all'inizio le idee erano tante e confuse. Da un bombardiere a propulsione nucleare, a un bombardiere subsonico, che arrivato al confine russo avrebbe gettato via le proprie ali e continuato supersonico solo per l'ultimo tratto, in modo da consumare meno carburante prima. Ma alla fine comunque sia Boeing sia North American sono finite per un design più convenzionale e a farsi tutta l'intera crociera a Mach 3. Boeing, spalle larghe, era sicura di vincere, ma North American se ne uscì con un progetto super interessante. Un design mai visto prima. Allora, il primo volo supersonico della storia dell'umanità era stato pochi anni prima, ma già gli ingegneri avevano capito che le onde d'urto, create da un oggetto supersonico, si spostano via da esso in tutte le direzioni e questa preziosa energia, se convogliata in maniera corretta, poteva generare portanza, rendendo più efficiente un aereo. E così si inventarono queste enormi ali ripiegabili che durante il decollo avrebbero agito come una normale ala a delta, mentre in volo supersonico avevano potuto piegarsi 35 gradi verso il basso e addirittura per il volo a Mach 3 c'era una seconda posizione a 65 gradi. Quindi l'aereo diventava una sorta di gabbietta, un tunnel con questa pancia ripiegata che convogliava le onde d'urto del suo essere supersonico e in questa maniera era più efficiente, aveva più range. Pensate, solo questo compression lift, che sarebbe il termine tecnico per sta roba di convogliare le onde d'urto, garantiva il 5% della portanza totale, che è parecchio, considerato che quell'aereo è tipo l'aereo al mondo con il rapporto peso-portanza più alto. Forse è giusto qualche aliante lo supera. Quindi comunque North American vince l'appalto, non era ancora stato costruito il primo prototipo, che c'è già il primo problema. Era il 1960 e un U-2 della CIA stava volando sulla Russia per una missione di spionaggio a un'altezza imprendibile, sia dai caccia sia dai missili terra aria, e però venne abbattuto da un S-75, un missile che a quanto pare le raggiungeva quelle quote e del quale gli americani non avevano idea fino a quel momento. Pensavano di essere invulnerabili a quell'altezza, e invece non lo erano. Tra l'altro il pilota si salvò, e lì ebbe inizio una storia super affascinante, sulla quale magari faremo un video dedicato, ma se volete c'è un film dedicato, che si chiama Il Ponte delle Spie. Comunque quindi, problema della quota. I russi ci prendono anche in alto. Altro problema, più problema di concorrenza, gli ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. Missili balistici intercontinentali, appunto, che potevano sferrare attacchi nucleari da un continente all'altro, e che è ironico da dire per un missile, però erano più economici che non mandare un bombardiere da un continente all'altro. Terzo problema, e questo probabilmente lo saprete, le Spie russe avevano ricevuto informazioni su questo Valkyrie, e in tutta fretta avevano costruito la loro risposta, il MiG-25. E vi dico, probabilmente lo saprete, perché ci ho fatto un video che vi è piaciuto tantissimo, 310.000 persone ad oggi l'hanno visto quel video, ma se ve lo foste perso vi lascio il link qua. Quindi l'XB-70 non aveva ancora fatto il suo primo volo che era già inutile perché tanti russi ti pigliano coi missili, obsoleto perché abbiamo inventato i missili intercontinentali, e doppiamente inutile perché i russi a quanto pare hanno un fantomatico caccia che riesce a starci dietro come velocità. Eh, però, sto progetto comunque aveva il suo potenziale, si decide di portarlo avanti lo stesso. North American inizia la costruzione del primo esemplare che sarebbe dovuto essere seguito da altri due prototipi. Tra i prototipi prendiamocela con calma perché un aereo così innovativo e così radicale ci darà sicuramente dei problemi. E infatti così fu. Già prima del primo volo i problemi erano tantissimi, ma al primo volo c'è il carrello che non gli è rientrato. Un motore andò in avaria, un freno si bloccò in atterraggio, regalandoci queste bellissime immagini dell'aereo che prende fuoco in atterraggio, ma perché sta grattando male tutto il carrello. Quindi non benissimo come primo volo. Inoltre, superando la velocità del suono, si resero conto che l'aereo resisteva, ma la vernice no. E quindi gli si svernicciò completamente come se fosse entrato in una tempesta di sabbia. Ma perché? Perché anche questa vernice era innovativa, era tutto molto all'avanguardia. Avevano fatto una vernice particolare, molto bianca e molto riflettente, per assorbire il meno possibile le radiazioni di una bomba atomica che fosse scoppiata nelle vicinanze perché quell'aereo avrebbe dovuto sganciarla e quindi... capito. Vabbè, comunque risolto il problema della vernice, gli americani non si diedero per vinti, continuarono a spingere sempre un po' più veloce, un po' più veloce, arrivarono a Mach 2.6, cioè poco più di due volte e mezza alla velocità del suono, e tipo lo splitter dei motori si strappò finendo dentro le turbine stesse e ne ha distrutte tipo 4 su 6. Non importa, ricostruiamo e continuiamo a spingere, sempre più veloce, arrivano a Mach 3 e dopo un paio di minuti di volo un pezzo di ala di 60 centimetri decide di abbandonare l'aereo perché, cioè, viste le enormi sollecitazioni di viaggiare a quella velocità e quindi anche lì abbiamo perso un pezzo di ala, l'atterraggio di emergenza, tutte cose. Cosa fanno? Dicono, vabbè, accontentiamoci, limitiamo l'aereo a Mach 2.5. È già buono così. In realtà l'intero aereo era stato costruito con una complessa struttura in acciaio inossidabile a nido d'ape e le proprietà strutturali sia per problemi sui controlli qualità, sia perché era così innovativo, era la prima volta che provavano ste robe, e non è che strutturalmente fosse così all'altezza delle aspettative, questo primo esemplare. Tra un attimo arriviamo al secondo. Prima però c'era un altro problema, che non avevano ancora messo pollici in su al video. Beh, questo potrebbe essere un problema, voi mettete le pollici in su. Il problema però era il raffreddamento. Molto veloce, uguale molto attrito con l'aria, uguale molto caldo. E quindi anche lì finiscono a usare un complesso sistema computerizzato che intanto regolava il centraggio dell'aereo come distribuzione dei pesi, spostando il carburante nei vari serbatoi all'interno dell'aereo, ma anche faceva circolare questo carburante all'interno delle superfici per usarlo come liquido di raffreddamento. Perfino i motori venivano raffreddati da questo particolare carburante, che non è quello convenzionale degli aerei, ma si sono inventati una roba che si chiama JP6, appunto che avesse le proprietà chimiche giuste, e quindi raffreddando le superfici, raffreddando i motori, potevano operare per ore ai carichi più elevati, senza fondere tutto, come invece succedeva al MiG 25, ma loro ancora non lo sapevano. Bene, nel frattempo il secondo prototipo era pronto. Esce dalla linea di produzione e cominciano a usare solo quello, perché era molto migliore. Avevano risolto parecchi errori rispetto al primo. Il 19 maggio 1966, l'aereo, numero 2 questo, volò per 3841 km in 91 minuti, facendo un bel pezzone di 33 minuti a Mach 3.08 costanti, 75.000 piedi di altitudine. Fu il volo più veloce mai registrato nell'intero programma. Sembrava andare tutto per il meglio ed è proprio in quel momento che accade il disastro. General Electrics chiede un photoshoot, un servizio fotografico, di quattro aerei militari che avevano motori prodotti da loro, per pubblicizzare i propri motori da caccia. E quindi mettono un Valkyrie bello, grosso, centrale, con sti quattro aerei alati e cominciano a fargli le foto, fino a quando purtroppo in quella che era una formazione di cinque aerei che era un po' troppo stretta, erano troppo vicinità di loro e i piloti già si erano lamentati, soprattutto perché, rispetto al Valkyrie, che aveva le ali ripiegate, gli altri piloti, quelli che gli stavano ai lati, non ci vedevano una mazza di dove arrivava l'ala di questo coso gigantesco. E a un certo punto, l'F-104, che gli stava appena sulla destra, probabilmente il pilota si è distratto un attimo a guardare un altro aereo che stava passando, si avvicina leggermente troppo al Valkyrie, viene di colpo risucchiato dai vortici dell'enorme aereo, viene spinto verso l'alto, ma colpisce la punta dell'ala del Valkyrie e ci si rabalta sopra, distruggendo entrambe le enormi derive del Valkyrie. E se il pilota dell'F-104 morì sul colpo, perché proprio si è spezzato a metà l'aereo e è esploso in una palla di fuoco, nel Valkyrie hanno riferito di aver sentito semplicemente un tump. L'enorme aereo per 16 secondi continua a volare dritto, senza dare avvertenza che niente sia andato storto, mica c'è gli specchietti retrovisori. Ma non c'erano neanche vibrazioni, non c'era niente e poi di colpo il bombardiere si rabalta, perché cioè non aveva più autorità, non aveva più controllo, non aveva più le superfici di controllo. Entra in vite, uno dei due piloti riesce a iettarsi, tra l'altro c'era tutto un sistema complicatissimo che dovevano tipo andare all'indietro, chiudersi in una capsula tipo UFO-Robot, ma perché era un sistema di espulsione pensato per funzionare anche a Mach 3. E quindi c'era sta capsula che gli si chiudeva addosso per evitare che il pilota venisse divelto dalla velocità supersonica. E poi l'aereo non stava andando da velocità supersonica in quel momento, però questo quale è sistema di espulsione, uno dei due piloti neanche prova a espellersi. Si presuppone che fosse svenuto dai carichi G, insomma di sto aereo che stava girando su se stesso. L'altro riesce a espellersi, però non funziona benissimo, non si chiude la capsula, non si gonfia il cuscino che avrebbe dovuto ammortizzare la cosa, quindi si becca tipo una 30-5 di G nella spina dorsale che bene non fanno, infatti si è fatto parecchi mesi d'ospedale. Ma quindi lui si salva mentre l'altro chiaramente finisce giù con l'aereo e l'esercito quindi si ritrovò con la perdita di il Valkyrie buono dei due prototipi e la perdita di due test pilot e oltre che per le mani un progetto, il Valkyrie, che aveva già poco senso sette anni prima con la crisi degli O2, figurati adesso. Tutti i fattori che sembravano determinanti per la messa a terra di quell'unico Valkyrie rimasto se non fosse stato per la NASA. La NASA ha detto ma a noi delle bombe atomiche non è che ce ne freghi tanto, però ci farebbe comodo raccogliere dati sulle onde d'urto del volo supersonico. Non è che ce le ho regalate. E quindi a partire dal 25 aprile del 1967 il Valkyrie numero 1, quel primo prototipo prodotto, venne preso in carico dalla NASA per continuare a fare questi voli test pienissimo di sensori e raccolsero una marea di dati inestimabili sul regime supersonico e sul volo supersonico. Questi report vennero poi resi pubblici in un report del 1972 per quello li conosciamo, però hanno contribuito allo sviluppo di diversi aerei supersonici tipo il B-1 e soprattutto il programma supersonico civile statunitense, cioè un concorrente del Concorde che purtroppo non ha mai visto la luce ma che esisteva. Cioè ci han provato anche se dopo non l'hanno più portato avanti. Pensate, questi dati per la NASA erano talmente utili che hanno sistemato tutti i loro sensori anche nell'ultimissimo volo del Valkyrie, quello verso il museo nel quale ancora oggi è. Cioè perfino in quel volo avete detto aspetta che metto i miei sensori che sono sempre comodi dati in più. E niente, oggi è in un museo in Ohio. In conclusione, mentre mettete pollice in su, anche se come bombardiere non operò mai, abbiamo detto che non lasciò neanche mai gli Stati Uniti, come arma psicologica che era il suo intento ebbe grandi effetti politici e soprattutto come aero sperimentale anche se ha avuto un sacco di problemi, ha aiutato notevolmente lo sviluppo dell'aeronautica militare e civile. Per questo video è tutto, pollice in su, ciao a tutti! e...